Ciao a tutti e benvenuti. Ci sono importanti novità nelle indagini sulla scomparsa di Catalei Alvarez. Oggi, il 5 agosto 2023, sono stati effettuati quattro arresti in relazione al racchio degli affitti dell'exotelastor di Firenze, lo stabile da cui la piccola Cata sarebbe scomparsa lo scorso 10 giugno. Prima di raccontarvele vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale, perché il vostro sostegno è fondamentale. Hanno arrestato quattro persone e le misure cautelari nei loro confronti comprendono le accuse di estorsione, tentativi di estorsione, rapina, minacce, tentato omicidio e lesioni gravi nei confronti degli altri occupanti dello stabile. Tutti i reati commessi tra il novembre 2022 e il maggio 2023. Tutte e quattro le persone arrestate sono cittadini peruviani e uno di essi è lo zio materno di Cata, Abel, l'ultima persona nota ad aver visto la bambina prima della sua scomparsa. Gli arresti sono collegati al cosiddetto racket degli affitti, un'attività illecita che coinvolgeva l'occupazione dell'exotelastor di via Maragliano a Firenze. Le accuse contro di loro si riferiscono principalmente alla compravendita illegittima del diritto di occupare le stanze, richiedendo tangenti per l'affitto che variavano da 600 a 700 euro. L'ordinanza di custodia cautelare ricostruisce anche un episodio specifico avvenuto il 28 maggio, un paio di settimane prima che Cata scomparisse nel nulla. Quel giorno i quattro indagati, ora arrestati, avevano minacciato e agito violentemente con una mazza da baseball contro una coppia di peruviani che occupava una stanza. Inoltre hanno compiuto violenze nei confronti di altre persone presenti nella stanza accanto e uno di loro, un inquilino originario dell'Equador, temendo per la sua vita, si era lasciato cadere nel vuoto dalla finestra, rimanendo gravemente ferito. Gli arresti sono stati eseguiti da una squadra di circa 50 poliziotti, mentre i carabinieri hanno eseguito una decina di perquisizioni nei confronti di altri occupanti dello stabile, tra cui i genitori di Cata. Lo zio e gli altri tre uomini arrestati al momento non sono accusati del rapimento o della scomparsa di Cata, ma le accuse riguardano soltanto l'indagine sul racket degli affitti. Tuttavia, da tempo i genitori di Cata sostengono che qualcuno sia a conoscenza di importanti informazioni, ma che si rifiuti di collaborare con l'autorità. E fin da subito, visto che non è stato richiesto alcun riscatto alla famiglia, si pensa che il rapimento possa essere collegato alle attività illecite che avvenivano nello stabile e, in particolare, allo zio di Cata, che proprio il giorno della scomparsa, secondo una testimonianza, era stato cercato da tre individui sconosciuti. Forse questa indagine parallela farà finalmente chiarezza sull'intera vicenda. Ditemi nei commenti cosa pensate di questo caso, quale potrebbe essere il motivo del sequestro e chi potrebbero essere le persone coinvolte. Io vi ringrazio e vi aggiornerò sulle vicende di attualità nei prossimi video. Se vi interessa l'argomento, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ciao e a presto!